La crescita economica delle nostre aziende attraverso la formazione continua con nuove formule di coinvolgimento dei lavoratori e degli strumenti di programmazione. È questo il messaggio uscito dalle sale della sede di Confindustria Vicenza, dalla tavola rotonda organizzata da Fondi Impresa e NIUCO che ha messo a confronto i rappresentanti di alcune società di riferimento e i vertici del principale fondo interprofessionale per la formazione continua, un settore aziendale, quello dell'aggiornamento professionale che diventa sempre più strategico, dalle soft skills come la comunicazione e il marketing all'attenzione verso il mondo dei giovani attraverso la collaborazione con poli universitari, tutto per affrontare le sfide di un mercato sempre più complesso e competitivo. La formazione è sicuramente un fermo strategico di tutto quello che avviene oggi in impresa, necessità di nuovi profili, quindi necessità di adeguare i profili più innovativi rispetto a quelli che sono nel passato, con una coniugazione più difficile probabilmente a farsi che a dirsi che è quella di la tradizione con elementi di innovazione che oggi il mercato richiede. Alle spalle delle dieci imprese che oggi hanno presentato le proprie esperienze, i numeri di fondi impresa. Il fondi impresa oggi raggiunge 192 mila aziende, matricole di aziende aderenti, ha una raccolta di circa 300 milioni di euro che spende sostanzialmente per il 93% tutto in attività formativa.